La Giunta regionale deve far tornare i conti, quelli del bilancio, che verranno discussi in consiglio nelle sedute dei prossimi 21-23-27 aprile. Nel frattempo la prima commissione presieduta da Andrea Di Lucente sta procedendo all'esame del pacchetto di provvedimenti contabili che compongono la manovra e ai lavori del primo appuntamento ha partecipato anche il presidente Toma, oltre che i direttori del Dipartimento del Servizio Bilancio. Tutti hanno fornito delle precisazioni dei chiarimenti su ciascun atto in valutazione dall'organismo e con tre voti favorevoli e due contrari è stato dichiarato il parere positivo al documento di economia e finanza regionale per il triennio 2021-2023. Aspetto che comunque non ha soddisfatto la minoranza. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Greco ha definito la manovra un accrocchio di numeri che rivedono al ribasso ogni previsione di sopravvivenza e ha parlato di una regione che non riesce a garantire i servizi minimi a copertura delle spese, provvedendo ad alienare i beni pubblici. La capogruppo del PD Micaela Fanelli ha parlato invece dei 40 milioni di deficit in più che rendono la situazione ancora più complicata. Oltre alla situazione perigliosa precedente accumuliamo altri 40 milioni di disavanzo che richiederanno un piano specifico per ripianare significa che il parere dei revisori dei conti non è ancora arrivato, c'è una situazione fortemente deficitaria. Questo rende complicata qualsiasi tipo di manovra, anche oggi abbiamo fatto alcune in questi giorni, stiamo facendo alcune proposte, ne dico alcune puntuali sui dializzati, il trasporto dializzati, sulle borse di studio, sui farmaci di faccia sci, su una serie di condizioni che sembrano piccole ma che investono tanti settori del vivere quotidiano dei nostri cittadini. Non so quanto spazio ci sarà, è davvero diciamo un momento molto difficile. Lo stesso dilucente poi ha certificato i numeri del debito spiegando però che l'origine del tutto va ricercata nel passato. Ci sono alcuni crediti che vengono tramandati da diverse amministrazioni e ci siamo ritrovati addirittura bolli 2007-2011 di questo periodo che ad oggi sono inesigibili eppure ce li ritroviamo iscritti nel nostro bilancio. Però dobbiamo anche dire che di questi 40 milioni in più di disavanzo questa amministrazione con tutta la buona volontà, anche facendo tutti i danni possibili immaginabili, in tre anni non poteva fare questa cifra di disavanzo. Il disavanzo viene dalle amministrazioni passate e sono numeri certificati e scritti.